Ciao a tutti e bentrovati nel mio canale Fantasticamente Inge, dove oggi continueremo il nostro percorso su Google Fogli esplorando un nuovo gruppo di funzioni molto utili, ovvero le funzioni di conteggio. Queste funzioni ci permetteranno di contare con estrema facilità il numero di celle piene, il numero di celle che contengono solo numeri e il numero di celle vuote. Parleremo infatti di contavalori, contanumeri e contavuote. Funzioni essenziali per chi lavora con grandi quantità di dati e in generale comunque per chi ha bisogno di monitorare le informazioni in modo molto rapido e soprattutto automatico. Esattamente come per il tutorial precedente, che io comunque vi suggerisco di vedere qualora non l'aveste ancora fatto, anche in questo caso ci concentreremo prima sulle sintassi di queste funzioni, dopodiché le applicheremo ad un esempio pratico, giusto per chiarirne l'utilizzo a tutti gli effetti. Bene, quindi apriamo il foglio sintassi e cominciamo dalla prima. La funzione contavalori è la funzione che ci permette di contare quante celle in un intervallo o comunque tra le celle che gli diamo in pasto contengono valori, valori di qualsiasi tipo, quindi che siano numeri, testi, date, formule e così via dicendo. Capite bene che questa funzione diventa perfetta quando dobbiamo semplicemente sapere quante celle sono state riempite, indipendentemente dal tipo di contenuto. Come vedete la sintassi è molto semplice. Come sempre, omettendo il segno di uguale, abbiamo conta, punto, valori e poi tra parentesi tonde si va a mettere valore 1, punto e virgola, valore 2, dove valore 1 è il primo valore o intervallo da considerare nel conteggio. Come vedete è al di fuori di qualsiasi parentesi quadra per cui è un argomento obbligatorio. Al contrario invece valore 2 e tutti i successivi che potremmo mettere sono tra parentesi quadre, il che significa che sono argomenti facoltativi. Infatti rappresentano tutti i valori o gli intervalli aggiuntivi da considerare nel conteggio. Benissimo. Proseguiamo adesso con la conta numeri. La funzione conta numeri ci aiuta a contare quante celle in un intervallo contengono numeri. Questa funzione è molto utile quando per esempio lavoriamo con un elenco misto, cioè un insieme di dati che contengono sia numeri che testo oppure celle vuote. E abbiamo la necessità di sapere solamente quanti valori numerici ci sono. La sintassi è molto simile alle precedenti. Avremo conta, punto, numeri e poi tra parentesi tonde andiamo a passare gli argomenti. Valore 1, punto e virgola, valore 2. Dove valore 1 è il primo valore o l'intervallo da considerare nel conteggio. Valore 2, anche in questo caso facoltativo, rappresenta i valori o gli intervalli aggiuntivi da considerare. Benissimo. Benissimo. Andiamo all'ultima delle tre, ovvero la funzione conta vuote. Questa funzione ci permette di contare quante celle in un intervallo sono completamente vuote. La sintassi è molto simile. Avremo infatti conta, punto, vuote e poi tra parentesi tonde avremo valore 1, punto e virgola, valore 2. Dove valore 1 è l'insieme di celle o l'intervallo di celle in cui contare il numero di celle vuote. Valore 2, che è facoltativo, rappresenta tutti i valori o gli intervalli aggiuntivi in cui conteggiare il numero di celle vuote. Benissimo. Adesso andiamo a mettere in pratica quanto imparato attraverso un esercizio. In questo foglio di esempio abbiamo gli scrutini di una classe che ha sostenuto un esame composto da una prova scritta e una prova orale. Dei 15 allievi della classe alcuni non si sono presentati all'esame e quindi avremo delle celle vuote in corrispondenza dei loro nomi. Per tutti gli altri che hanno sostenuto l'esame invece ci sono i giudizi, sia per lo scritto che per l'orale. E poi nella colonna esito c'è il risultato finale. Chi ha superato l'esame avrà un determinato punteggio, chi non l'ha superato avrà la dicitura bocciato o bocciata. Benissimo. Fatto il punto della situazione cominciamo a soddisfare le richieste del problema e lo facciamo attraverso le formule di conteggio che abbiamo imparato oggi. Dunque la prima richiesta è quella di contare il numero degli allievi che si sono presentati all'esame. Quindi non ci interessa al momento sapere chi è stato promosso o bocciato ma solamente quanti si sono presentati. Per questo motivo la formula più adatta a fare questo conteggio è la contavalori perché come abbiamo detto poc'anzi questa funzione conta le celle piene indipendentemente dal tipo di contenuto. L'importante è che siano piene. Quindi ci richiamo qui nella cella G2 e cominciamo a scrivere uguale, conta.valori, aperta parentesi e gli diamo in pasto tutto l'intervallo da D2 a D16. Chiudiamo parentesi, premiamo invio. Benissimo. Abbiamo ottenuto 11, quindi 11 sono gli allievi che si sono presentati all'esame. Analogamente ci viene chiesto di calcolare quanti allievi non si sono presentati all'esame. Per cui stavolta ciò che dovremo contare sarà praticamente quante celle vuote ci sono in quell'intervallo. Per far ciò abbiamo la nostra carissima funzione conta vuote. Per cui posizionati nella cella G3 andiamo a scrivere uguale, conta.vuote e poi dentro la parentesi tonda andiamo a dare in pasto sempre il solito intervallo D2 e D16. Premiamo invio e otteniamo 4. Beh, in effetti Gianni, Chiara, Marta e Laura non si sono presentati all'esame. Benissimo. La terza richiesta riguarda il numero degli allievi che hanno superato l'esame. Come abbiamo detto prima, chi ha superato l'esame avrà in corrispondenza della colonna esito direttamente il punteggio numerico. Perciò capite bene che in questo caso la formula più adatta è sicuramente la conta numeri. Per cui posizionati qui nella cella G4 andiamo a scrivere uguale conta.numeri e dentro la parentesi gli andiamo a dare in pasto D2 e D16. Chiudiamo parentesi e premiamo invio. Otteniamo 9. Quindi i promossi sono 9. Benissimo. E fin qui abbiamo usato, anche in maniera molto semplice e veloce, tutte le funzioni di conteggio viste oggi. Però, quello che vi chiedo ora è di fare un passettino in più, cioè imparare a giocare con le funzioni di Google Sheets. Perché? Perché ci saranno sempre dei casi nella quotidianità, nella realtà, che sono, lasciatemi passare il termine, scoperti. Per esempio, il problema potrebbe anche chiederci di calcolare il numero di bocciati. Come facciamo a calcolare il numero di bocciati, dato che non esiste una funzione predefinita che conta solamente le celle contenenti del testo? Eh, bella storia. In questo caso bisogna risolvere combinando le funzioni che esistono e che da oggi conosciamo pure, ovvero la conta valori e la conta numeri. Infatti, se ci pensate, se noi dal numero di celle piene togliamo quelle che contengono numeri, otteniamo banalmente quelle che contengono testo. Quindi, praticamente, se senza averci chiesto alcun calcolo prima il problema ci avesse chiesto direttamente di calcolare il numero degli allievi che non hanno superato l'esame, avremmo potuto scrivere contro EV, zero, sock finally, citing in descrizione a questo video. Generalsστεim vi sa di calcolare il numero di paese di calcolare il numero di table e di calcolare il numero diiso. E poi, sempre il solito intervallo. Chiusa parentesi, invio. Il risultato è 2 perché in effetti solo Marco e Sara sono gli allievi bocciati. Ovviamente in questo caso specifico avremmo potuto ottenere lo stesso risultato semplicemente sottraendo la cella G4 dalla G2. Quindi se io faccio uguale G2 meno G4 ottengo 2. Ma è chiaro che questi sono esempi molto banali per capire i concetti. Come vi ho detto nello scorso tutorial, applicate in dataset così piccoli queste funzioni possono sembrare addirittura superflue. Però immaginate quanto diventano utili quando si ha a che fare con enormi quantità di dati. Quindi il mio consiglio è sempre quello di esercitarvi sia autonomamente sia attraverso la guida che ho preparato a corredo di questo corso che vi offrirà la giusta combinazione di teorie ed esercizi utili per consolidare ciò che avete appreso nei vari tutorial. Se siete interessati a questa guida potete richiederla compilando il modulo contatti del mio sito che trovate linkato in descrizione. Poi se questo tutorial lo avete trovato chiaro ed utile lasciate un like o un commento condividetelo con i vostri amici o colleghi e per non perdervi i prossimi iscrivetevi al canale. Ciao!